bella a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video qui è già piazz e siamo tornati in un altro video qui su rainbow six age e come vi avevo promesso siamo tornati di nuovo con il team alpha e spero che l'episodio vi piaccia lasciate un mi piace un commento e ci vediamo nella partita vamo se ne vinci 5 se ci dovessi essere platino 3 ora 1 platino 3 non ricordi uno pensa poi sono salito fino fino arriva argento uno quasi oro 4 e poi sono risceso mostro argento 3 la spero di arriva a platino vicinamenti tanto con l'argomento di pg madonna santa rimessa a bar le novità neanche giallo accento di pg e non manco me lagga regà ma una favola mo perché a me la sera tardi ho detto me va bene è prima che me lagga ma non mi trova l'obiettivo vabbè ci hanno guardato no regà qua non entriamo sapete senza l'altà c'è ah c'è il twitch c'è il twitch non l'avevo visto al twitch vai da sopra le scale regà spaccatemi la con qualcosa spacco o porca puttana nuovo caricatore salva una sponchia da dove no dai però porca miseria mamma ferito trova e mute che era back squadra d'attacco eliminata vabbè ragazzi g per loro difendite la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di più rischio ed è chiaramente l'argomento ora della giro scusa la cosa non è razzola di più rischio o sarebbe che la potere del fatto che mi ha tirato 4 qui e le coincide la botola d'accordo da due a fare la botola barricata anche tempo porca miseria mi stanno entrando da solo sono morto sono distrutto il drone di fiù del drone di asia vabbè io dormo non mi ha mai preso vado la attento male levati da lì giacomo aspetta che scendo fuori 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 e c'è sta il mira aperto ma quando lo dire che il mira aperto regalo anche rosseto a vera sopra questa e vabbè il contenitore di biorizio francese di merda senza selva no è stanza selva c'è banchile col pompa 10 secondi all'inserimento cinque secondi all'inserimento a stalle miottere la casa non sappiamo dove il contenitore di biorizio aprite il fuoco a questa mi vado a guardare vabbè si guarda che questo è assaggiato da il drone va si va bene me lo tolto al cazzamelo dopo di esserci quando guarda un bel film mouse spedono e faccio la finale tanto questa io dopo caso spacco direttamente guarda la perdiamo questa partita veramente quello la che mi fa un e 18 boh non lo so io non mi viene non mi fontura manchino non mi viene non mi fontura manchino c'è la smocca qui mi chassava per ferire di sotto si vabbè prendimi un'altra volta il drone magari di biorischio trovato ora raggiungetelo rimangono 15 secondi sapeva che c'ero qui dai cazzo e proteggete il contenitore c'è bandit subito bravi bravi stavolta però faccio da un'altra parte difendete la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio gioco al piccolo carpettiere col muro come ti fa il giochetto col mira raga cioè no col mira col coi bandit siamo a 10 secondi siamo a 5 secondi il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio chi è che mi ha lasciato con 40 di vita però bene qua qualcuno ha sparato qua addosso sì infatti questo si pompa legge basato M'hanno dronato. Merda. Un nuovo caricatore. Merda. Scusa che l'ha. Dopo po'. Dopo. Ricarico! Nido pronto! E muori. C'ho il pompo. Ricarico copritemi! C'ha. C'ha odio! Ma pure sentite Claudia. No, non sto parlando. Sì. Non ha aperto la botola? Non mi capito. Da sopra, porca puttana! Guardate. Oh, sto fuse non mollava. Non mollava la presa. C'ha ci sono. Sto prendendo il contenitore. Scendi, prendi dalla botola. Lei vai. Sopra, eccolo! Ma non lo scaldi, però. L'ultimo nemico è rimasto. Vabbè. Missione di difesa fallita. Dovevo ricaricare, forza, forza. È stato preso dagli attaccanti. Trovate un pochino da parte di Palermo non dorme. Trovate il contenitore di Biorito. C'è una pistola di Galileira. Ma chi spawn kill, raga. C'è una pistola di Galileira. C'è una pistola di Galileira. ve l'ho detto che uccide man mano che io comunque c'è mira chi ha aperto qua dalla questa porta io io contenitore di biorischio trovato non l'ho preso ma dove per quanto sono mirato era un edifico ma perchè non muoio come esce giacomo eh l'ho ucciso l'ho ucciso voleva prendersi la kill questo bastardo liberate l'area dell'esplosione guarda un nemico guarda un spara a bordo spara a salve Claudio drone partito drone pronto come ti ho detto tu spara a fare dentro a 15 secondi no dentro a sinistra e da qui bravo da qui giacomo mira qui da dietro ti viene qua la squadra d'attacco ha eliminato i difensori non piglio anche il sito qua c'è stata utilissima non l'ho preso nemmeno guarda qua come mi voleva in chi è che c'è uno mi voleva con la caccia e quattro dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio difendete la stanza trapporozze sotto le finestre ci stanno tutte questi da qua sicuramente entrano quindi qua io ce la metto alla caccia le canate ormai non sono più o meno rinforzo il muro il nemico ha individuato il contenitore di biorischio il nemico ha individuato il contenitore di biorischio rimangono 10 secondi mancano 5 secondi no vabbè no vabbè sta aperto fai lo prima che vengano tu sei chi c'è dio puoi chiudere ah sensore cardiaco attivato porta barricata giacomo ti devo dire una cosa non è più trappola giacomo perché mettere un acqua se ce l'hai eh clac tieni una beca mentre ci attaccano non è più troppo guardate è più che cosa un'altra Maria tutti qua dentro famo una finaccia ancora dietro c'è un po' di Appena vengono vengono sciolpati non preoccupatevi di Involve anche bello ma ho usato il mio world. Io non ho usato Ha usato il mio world Bufo di merda ma impara salito il bufo di merda figlio di puttana ho ucciso tu e ce l'ho ucciso un'altra che non mi ricordo asce forse Dunque povora audi l'ho ucciso solo io audi Ragà camminata verrà pesante Non dovrebbe averne più in questo momento Il nemico si sta impossessando del contenitore intervenite all'istante Io ho entrati entrati prima che rientrino Ragà rientrate prima che rientrino Vabbè capito Attento già siamo a 15 secondi uno ci deve stare dentro che mi deve dire dove mancano dieci secondi Quali scasso per Giuro di scasso Succede eh Sì Grandi ragazzi Ci abbiamo vinto No Perchè ho preso Vaffanculo Perchè ho preso il bendy Barricate la stanza Non mi dovete barricare qui ragazzi E' un mentore di biori Che sapere ci mettiamo a camion Ma non dovete barricare perché faccio il wall bang Importante che mi baricate il davanti No ha detto ha detto qua no 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 Qua no Barricate mi fa invece Mi manca solo voi Il nemico ha individuato il contenitore di biori Ma posso barricate Mettimi il bendy Sì sì No 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 Cagli in acqua Audio No Mettimi il bendy 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 Sì sì Ah va Minchia c'è muore Di questo C'è pure neve trappolo C'è Star Scardole Ispezione in cerca di nemici No Aspetta Hanno rinunciato ad appropriarsi del contenitore Dove? Impedite al nemico di prendere il contenitore No raga ma vedi qua Ma vedi qua che culo Che culo di merda Proteggete il contenitore Di prendere il contenitore Giacomo c'è Twitch e l'altro fuori Attento a Twitch c'è Twitch Il drone Qua vantire sarebbe stato user come il pane Guarda Twitch Ultimo attaccato è rimasto in vita No Sto f***ando raga Sto f***ando raga Sto già dove sei Twitch Quindi non so cosa Sto f***ando raga No Nasconditi Mi fai il giro Ma non ti fai il giro Langer Non so se ho fatto full team Però ne ho fatte 4 sicure 4 Chiamavo 3 kill Quindi 4 Sto il drone Io pure Il termite scusa la fatemelo utilizzare Non entramo da là Guarda vedere i bagni Qua non c'è nessuno Allora raga nei bagni Da qua è tutto libero Dobbiamo entrare dentro Dovremmo entrare eh Nonostante me l'hai rubato a me Stanno qua dentro comunque Che è una crema Da pensare nelle scale raga Se volete vi copriva le scale così Una frappola di stile Ti avviso io Ti avviso io se vengono dalle scale raga Bucate Bucate Alla è buco all'è Boss Non c'è la carica di visione scusa Aspettate il mute da qualche parte qua C'è uno là oggi Hanno fatto un mugo nel muro Quindi non lo so Qua Sparando Certo che è da dentro E' qui comunque lo so Cambio caricatore Su cammelo Su cammelo Ce n'è un altro No raga E' che stava a fa' sponchilla uno Comunque l'ho ucciso Fros Rischio Attività nemica Tornate a occuparvi del contenitore Dopo avermi trasfizzato la minaccia Un solo difensore è rimasto Dimenticatevi del contenitore Cazzo Guardate 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 Che coglione Sì Bella Veramente bella Questa Mi sa Carica carico Io Praticamente non ho fatto niente C'è tre kill Vabbè dai complimenti su Oh grande Palermo Ah io tutto sommato Mi sono svegliato gli ultimi round Però a fine da una bella partita Guarda che su sto gioco non è importante A chi fa più kill Quello è vero E' come giriamo Se è giusto Se è giusto Oro due Io sono ancora Argento tre Porca miseria Io sono Oro due Spero che l'episodio vi sia piaciuto Lasciate un mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E' Noi ci vediamo In un prossimo Video Ciao ragazzi Ciao